Deve essere combattuto e io sono qua come rappresentante dei Da Vinci ma soprattutto come studentessa perché voglio combattere contro questo menefreghismo e questi tagli alla cultura e quindi invito tutti quanti a una partecipazione piuttiva non solo qui, non solo oggi ma sempre contro quelli che vogliono toglierci il futuro e facciamo un grande urlo adesso tutti insieme! Grazie a tutti!